Quasi 24 milioni di italiani sono colpiti da almeno una malattia cronica. Queste patologie assorbono circa l'80% dei costi sanitari complessivi, con uscite pari a 66,7 miliardi di euro ogni anno. Un dispendio enorme per il sistema sanitario che deve trovare nella medicina del territorio gli strumenti per garantire la sostenibilità. A fare il punto è la Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie per l'apertura del Congresso Nazionale a Firenze.